Oh, salva! Movedi, amico, movedi! Altre, non state mica, vanno a spiegare! Oh, salva! Dannazione, liberi, sono qua sto, vedi? Temporezza da sì! Alcatraz! Alcatraz, rispondi! Dannazione, dov'è il suo segnale? Alcatraz, riesci a sentirmi? Sto attivando il nostro segnale GPS! Portati in posizione elevata, dirigiti verso il segnale! Noi siamo bloccati qui, i chef spuntano dappertutto! Cercherò di contattare Barclay! Attraversa l'edificio e unisciti alla squadra! Occultamento attivo! Attraversa l'edificio e uncellino! Attraversa l'edificio, inizia la s A presto! 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 A presto!